La Commissione Ferri Generale ha concluso l'esame dello Statuto Comunale, adesso la parola passa al civico consesso che dovrà procedere con l'approzione della cosiddetta Carta Costituzionale dei Comuni. Vittoria era già dotata di uno statuto che necessitava di un aggiornamento tenuto conto che lo stesso era stato introdotto 19 anni fa. Dopo un lavoro certosino dell'assessore con delega allo statuto e regolamenti Piero Gurrieri, di tutti i colleghi della giunta sotto la regia del sindaco Nicosia, si è giunti all'elaborazione di uno statuto moderno e per di più condiviso dalle diverse realtà della città. Ne abbiamo parlato ieri sera a Postitte con l'assessore Piero Gurrieri. Presto, direi nelle prossime settimane, approderà in Consiglio Comunale, avendo già superato tutta l'istruttoria, il complesso degli adempimenti che sono necessari, credo che abbiamo migliorato lo schema. Non solo lo abbiamo adeguato alle leggi dello Stato e della Regione che sono intanto in questi 19 anni intervenute, sono sicuramente tante, ma abbiamo incentrato, abbiamo caratterizzato lo statuto ribadendo una ulteriore centralità dei diritti dei cittadini. Faccio solo degli esempi. Innanzitutto abbiamo disposto anche, come si suol dire, preter legge, quindi oltre quanto viene stabilito dalle leggi dello Stato e della Regione, abbiamo disposto l'assoluta e generale visibilità di tutti gli atti dei Comuni. Abbiamo reso statutariamente apprezzabili, statutariamente fondative, alcune regole che vi erano anche in quei regolamenti e che traducono nella realtà alcuni principi anche costituzionali importanti, a partire da quello della trasparenza, dell'imparzialità della pubblica amministrazione, del contrasto alla illegalità e ai poteri criminali. Abbiamo dato anche un riconoscimento statutario ad alcuni meccanismi di partecipazione, un certo numero di cittadini, un numero tutto sommato limitato, o di associazioni, cioè i corpi cosiddetti intermedi della società, possono, così come avviene per gli organi istituzionali, il Consiglio Comunale e la Giunta, possono proporre alcuni referendum con i quali vengono introdotte alcune norme nell'ordinamento comunale, quindi che poi varranno per tutti i cittadini, o con cui si chiede anche la modifica o la soppressione.